Ciao a tutti, oggi faccio questo video per spiegarvi come mai sono sei mesi che non pubblicavo un video qua su YouTube. I motivi in realtà sono molteplici, il primo però era il fatto che a video che andavano mediamente bene seguivano poi dei video che non andavano così tanto bene e quindi tendevano a smorzare l'entusiasmo, poi è arrivata l'estate e qua in mansarda registrare col caldo è sempre un po' difficile, tutto questo unito alla mancanza di tempo mi hanno fatto decidere di prendermi piuttosto un periodo di pausa. Periodo che ho cercato di sfruttare per cercare di capire come portare avanti il canale e in primis il discorso legato alle recensioni perché voi adesso magari non ve ne rendete conto ma per 20 minuti, 30 minuti di girato ci perdevo veramente tanto tanto tempo e quindi ho pensato che nelle prossime recensioni non andrò magari a focalizzarmi tanto sulle specifiche tecniche sbriciolando come facevo in passato ma cercherò di focalizzarmi fin da subito su quali sono i pregi e i difetti dei prodotti che andiamo a vedere facendo in modo da avere quindi dei video magari un pochino più leggeri anche un pochino più corti quindi più facili da guardare e che però al tempo stesso diano effettivamente una percezione subito immediata di quali sono eventuali i pregi e i difetti del prodotto. ho pensato anche a come sfruttare altre funzionalità di youtube che non ho mai sfruttato in primis sono gli shorts che ormai sono arrivati e per un po' di tempo probabilmente saranno qui per restare e cercherò di spingere anche quelli magari con dei contenuti basati sull'attualità e in più vorrei approfondire vorrei tornare a riprendere in mano la parte dei tutorial che anche quella mi è sempre piaciuta fare dovrò cercare un attimo di capire ancora che tipo di tutorial fare o come presentarveli. è tutto volevo semplicemente darvi un aggiornamento del fatto che non sono sparito io del resto ho sempre continuato a rispondere ai commenti che ricevevo ai video che mi mandavate e sono contento che comunque anche in questi mesi in cui non ho più postato niente la gente è continuato a iscriversi al canale segno che comunque qualcosa ho seminato e vi ringrazio per la fiducia è tutto qui, volevo semplicemente darvi un update da domani si ritorna a una pubblicazione più o meno quotidiana dei contenuti ciao a tutti grazie a tutti